Cari amici, oggi voglio viaggiare in Francia, ma non per i musei, perché è molto noioso. Anche loro hanno bisogno di visitare. Vado dove puoi bere del buon vino giovane. Lì ti diranno come viene prodotto. Compra del buon vino per te, se ti piace. In generale, per me è più interessante. Oggi voglio andare a Bordeaux. È una città meravigliosa nel sud-ovest della Francia. Hai solo bisogno di fare una passeggiata a lungo di esso. Incantevoli villaggi ristrutturati, edifici restaurati dell'XV in secolo, un bellissimo centro pedonale della città e una fiorente zona su lungomare con boutique e caffè eleganti. Ma ne parleremo un'altra volta. E ora parliamo di vino. A Bordeaux, nel sud-ovest della Francia, ci sono così tanti magnifici vigneti. È un posto ideale per i vigneti. I vini rossi bordolesi sono tradizionalmente miscelati. Le varietà classiche di Bordeaux sono, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot e Petit Verdot. In generale, sulla sponda sinistra della Girona, nelle miscele prevale il Cabernet Sauvignon, e sulla riva destra la gente preferisce il Merlot. A Bordeaux esiste una divisione condizionale nei vini a destra e a sinistra. I vini bianchi bordolesi sono anche tradizionalmente miscelati. Per la produzione di vini bianchi, tra cui il Sauternes, utilizziamo principalmente Sauvignon, Saint-Millon e Muscadelle, raramente ogni Blanc, Merlot Blanc e altri. Prima di tutto, i vini rossi di Bordeaux sono apprezzati in tutto il mondo, ma i vini bianchi di Bordeaux sono meno popolari. Tuttavia, la seconda delle più costose bottiglie di vino vendute nella storia, è una bottiglia di bianco dolce Sauternes Cateaudicum in 1787 di Bordeaux. È stato venduto ad un'asta di vecchi vini a Londra nel 2006 per 55.000 sterline. Il primo posto nella classifica dei vini più costosi della storia è il rosso Cateaula Fitter Rothschild di Bordeaux nel 1787. Fu venduto all'asta per 160.000 dollari. Il periodo migliore per rilassarsi è Bordeaux e da giugno ad agosto, ma questo è il periodo turistico più frequentato. La maggior parte dei viaggiatori francesi ed europei visitano la capitale del vino della Francia. Se vuoi vedere i luoghi, non le folle di turisti, è meglio riposare a Bordeaux in autunno o in primavera. Sconti stagionali sono disponibili in questo momento, e puoi risparmiare i tuoi soldi. Tuttavia, ci sono degli svantaggi. Da settembre molte cantine iniziano a lavorare i vigneti e producono vino. Molti turisti preferiscono visitare Bordeaux durante le vacanze invernali. Le vacanze saranno meravigliose ma per quanto riguarda le escursioni? Non lo so, deciderai, ma preferiamo l'estate. Facciamolo così. Solo questo viaggio dovrebbe essere pianificato in anticipo. Ci sono molti turisti nella stagione. Il viaggio è previsto per un paio di mesi. In generale, puoi scegliere qualsiasi Cateau in base ai tuoi gusti. Beh sì, ci sono molti. E quasi tutti fanno escursioni per i turisti. Bene, ti dirò un po' di alcuni di loro. Cateau Margaux, produce tre vini dai loro vigneti. Cateau Margaux, principale o il primo vino rosso. Pavillon Rouge Cateau Margaux, e il secondo vino rosso. E Cateau Margaux Pavillon Blanc, produzione di vino bianco. I vini in cui l'etichetta dice semplicemente Margaux sono prodotti nello Cateau. Questo li rende originali. E dove si dice Cateau Margaux, lo fanno in diversi luoghi del comune. Cateau Latour, produce tre vini rossi dai propri vigneti. Grand Vin de Cateau Latour, principale o il primo vino. Les Forts de Latour, e il secondo vino. Epa Willac, il terzo vino. Questo castello è abbastanza difficile da trovare. Alcune persone non riescono a trovare. È necessario prenotare in anticipo. Alcuni turisti non vanno lì di fronte a difficoltà. Ma se sei riuscito ad arrivare lì sei fortunato. È divertiti molto. Castello Outbrion produce tre vini dai propri vigneti. Cateau Outbrion Rouge vino rosso. Cateau Outbrion Blanc, vino bianco. Le Clarence Cateau Outbrion un altro vino rosso. E alcuni vini più deliziosi. Tutte e tre le fattorie secondo la classificazione ufficiale dei vini di Bordeaux nel 1855, appartiene alla categoria Premier Grand Cru Classe. Questa è la categoria più alta nella classificazione, incluso nei primi cinque produttori di Bordeaux. E questa classificazione è cambiata solo poche volte per tutto il tempo. A Bordeaux ci sono molte fattorie, e molti altri deliziosi vini. Non limitarti. Non descriverò tutto e ti dirò i dettagli. È meglio visitare e provare tutto da solo. A mio parere Bordeaux è un paradiso per le persone che amano il vino buono e squisito. Certo, ognuno ha gusti diversi. Quindi prendilo.